Musica Salve a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Dark House 92 Siamo oggi qui su Minecraft Come potete vedere Praticamente ho creato questo mondo Dove praticamente è un mondo tutto sopravvivenza Dovremmo scoprire noi le cose E tante altre robe Allora intanto qui c'è una caverna E già vediamo del ferro Sarebbe il ferro questo non mi ricordo Il problema è che appunto Io di Minecraft non so diciamo Un gacchialo Quindi ragazzuoli per farvi capire Dato che non so niente dovete aiutarmi voi Il problema è che non so come si fa i picconi E queste cose qui Quindi io intanto l'ho creato Ho creato il mio mondo Mi raccomando poi ovviamente Vedremo più in là Di creare un altro nuovo mondo Dove potrà entrare la gente Tutte queste cose qui Vediamo un po' se riuscirò a farlo Mi raccomando ragazzuoli Cercate di scrivermi giù Nei commenti Cosa comunque Cosa volete che io faccia Perché il problema è appunto Questa cosa che vi ho detto Io mi ricordo però Intanto cerchiamo di fare una cosa Io mi ricordo che Dobbiamo prendere la legna La legna Però dobbiamo fare anche il banco da lavoro Il banco da lavoro io non mi ricordo come si fa E quello è il problema Perché poi con il banco da lavoro dovremmo fare il piccone Cioè un qualcosa comunque no Dobbiamo fare anche la nostra casa Il letto Tipo queste cose qui Cioè io non Non le ho mai fatte Quindi avete capito no Dovete aiutarmi voi Il problema adesso è che se io muoio Perdo tutto Penso no Comunque Vediamo un po' Intanto io prendo qua la legna E perché io mi ricordo Dovamo fare le bacchettine di legna Mi ricordo E poi una cosa del genere Raga Sti gran cazzi Io ve l'ho detto Con minecraft Sono proprio Faccio schifo ecco Allora prendiamo la legna Intanto Cerchiamo di capire un po' Come si fa il banco da lavoro Perché non mi ricordo A meno che dovremmo farlo Beh ora vediamo Ora vediamo E niente Vi stavo dicendo appunto Che praticamente Ho creato questo nuovo mondo Perché Ho Ho pensato Sempre Live Live pokemon Live Clash royale Cambiamo un po' E portiamo qualche video di minecraft Speriamo che comunque Vada tutto per il meglio E questa serie vi piace E ovviamente Porterò altre serie E Scrivetemi nei commenti Anche quale serie Vorreste Voi che io porti E Ve li porterò ovviamente In un video Perché purtroppo Come vi ho già detto Non Qua abbiamo anche degli alberelli Quindi se faccio così Uh Grande Grande Va bene Allora Facciamo una cosa Le canne Uh Queste dovrebbero essere Le canne da zucchero Oh Sti cazzi dai Allora Dobbiamo trovare un posto Dove farci La nostra casa Però Il problema È un altro Impressa compiuta Fare l'inventario Ok Adesso Ehm Pazziamo qua sto pollo Un attimo È fatti ammazzare È fatti ammazzare Dammi il mangiare Pollo crudo Ecco praticamente Noi dovremmo fare Il banco da lavoro Ma il banco da lavoro Come cacchio lo facciamo? Questo è il problema Non so come fare Il banco da lavoro O si fa qua Fabbricazione Vediamo No Si dovrebbe fare Assi da bete Dovrebbero essere questi Raga Però il banco da lavoro Ripeto Non mi ricordo Come si fa Non lo so ragazzi Veramente Se io metto Uh No Non ci credo Raga Questa è la prima volta Che mi capita Una cosa del genere Ragazzi Io non lo sapevo Non lo sapevo Allora Banco da lavoro Mamma mia Ma io mai Cioè veramente Guardi Allora Mettiamo No Quindi significa Che così Non va bene Allora Dovremmo fare Tipo Eccoli Eccoli No Eccoli qua Perfetto E poi dovremmo fare Tipo così Mamma mia Però è piccone di legno Questo Raga Per fare Quello di ferro Ci serve Il ferro E quindi Al massimo Facciamo così Intanto Ne facciamo Uno Di legno E proviamo Con quello di legno A Aspetta Dov'era la grotta Raga Vi ricordate Dov'era la grotta Dobbiamo cercare La grotta Quella che avevamo Trovato prima Che se non vado Errato Dovrebbe essere Qui Madonna raga Ho fatto il banco Da lavoro Che manco io Lo so come ho fatto Veramente Ve lo giuro Allora Raga Per farvi capire Questa è la prima volta Che io Oddio Questa è la prima volta Che io riesco Riesco a fare una cosa Cioè è pazzesco Perché io Perché io Di 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 Minecraft Io non so Quasi E ti fai Ammazzare Perché scappi Secondo te Ti salvi Lì Non ti salvi Lì Ok Vabbè Quindi se faccio Così Oh Appena compiuto Duro come legno Grande Ok vabbè Intanto Prendiamo anche legna Perché ci serve No Per fare i bastoncini E E appunto Devo cercare Devo cercare Dov'è 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 Raga Cazzo L'avevo vista Prima Eccola 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 Allora facciamo una cosa Dato che è questa Noi facciamo Così Per ricordarci Che è qui Raga Il banco da lavoro È lì Vado a prendere Il banco da lavoro Un attimo E Per Poi Scavare la caverna E riuscire a prendere Vai Vai Banco da lavoro Riuscire a prendere il ferro Per poi farci Il piccone di ferro A sto punto No Ok Il piccone di ferro L'ho già preso Eh sì Il piccone di ferro Il banco da lavoro Ed ecco qui Che ci sorge Il problema Come si fa Il coso Quello là Del carbone Perché adesso Dovremmo mangiare Però dobbiamo mangiare Il pollo crudo Questo è il problema Vabbè Comunque Questo dovrebbe essere Il ferro No Vediamo un po' Ma Forse Vediamo Vediamo se Se appunto Devo prendere Le pietre Oh Piccone di pietra Eccolo qua E adesso Con il piccone di pietra Dovremmo 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 Prendiamo il carbone Grande Ragazzi Ci siamo Ci siamo Dai Abbiamo un po' Capito Ehm Diciamo Diciamo Qualcosa Ehm Va bene Va bene Qui vediamo se questo Ce lo prende Oh yes Adesso si Adesso si Perfetto Perfetto Quindi siamo A cavallo Cioè dai A questo punto Prendiamo un bel po' Di questa roba Uh Qui c'è uno zombie Quindi io direi Di ammazzare tanto lo zombie Sempre ci riusciamo Di ammazzare E' caduto giù Ehm Vedemelo nei commenti Come si fa Ma penso con la lava Tipo No Boh Fatemelo sapere voi Regà E' sti gran cazzi Allora Ritato usciamo Così c'è bel sole Un po' sta il sole Non ti lasciano più Vediamo un po' Eccoci qua Con il banco da lavoro E vediamo un po' Il da farsi Ferro grezzo Se io ci metto I bastoncini Non fa nulla Ok Quindi Se io metto il carbone No Raga ve l'ho detto Io non lo so Come funziona Allora dobbiamo fare Il coso Quello là di carbone Giusto Quindi dovremmo andare qui E fare tipo No E' difficile E' molto difficile Dovremmo Allora raga Praticamente dovremmo fare noi Il cosino Quello là Niente Non mi viene in mente Come si dice Vediamo se Mi mettiamo tutte le pietre Vediamo eh Una E due Vediamo eh No Non devo metterli lì Vedo E tre qui Uno Due Tre E quattro No Come cacchio si fa Oh è pazzesco Raga Niente Non lo so Beh Raga Fatemelo sapere nei commenti Perché io Praticamente Non Dovrei anche dormire Non so come si fa il letto Quindi Ditemi come si fa il letto Spiegatemi Come faccio il coso Quello del carbone Dove praticamente Ammazzo I polli Che ne so Prendo il pollo crudo Per fare il pollo cotto No Lo metto nella carponella La come cacchio si chiama Fatemi sapere queste cose Raga Così riesco ad andare avanti Perché se no così Non riesco automaticamente Ad andare avanti Ragazzi Il video è stato molto breve Mi raccomando Di lasciare tanti like Per supportare la serie E ovviamente Ovviamente tanti like Perché ho fatto il banco da lavoro Che manco io So come ho fatto Il piccone di ferro E Sto imparando Impariamo insieme ragazzi Mi insegnate voi A fare determinate cose Mi raccomando Giù nei commenti Scrivetemi come si fa Il banco quello lì Di carbone Dove ti metti il carbone E il pollo crudo E faccio il pollo cotto E in più Scrivetemi anche Come si fa Come si crea il letto Così Noi già Ci creeremo La nostra casetta Nel prossimo video Mi raccomando ragazzuoli Tanti like E cercate di condividere il video Grazie A presto ragazzuoli Ciao Ciao